L'alimentazione è davvero qualcosa di importantissimo per noi esseri umani e anche per i nostri amici a quattro zampe che poi diventano dei veri e propri membri della nostra famiglia. E allora con grande piacere e con grande entusiasmo vi presento De Fiana Marolda che è un medico veterinario con il quale insieme a me abbiamo creato un bellissimo corso teorico pratico su come far mangiare i nostri amici a quattro zampe. Ma De Fli, cosa faremo all'interno di questo corso? Sarà un corso veramente a 360 gradi perché innanzitutto vogliamo dare delle indicazioni pratiche su come preparare per i nostri animali, una cosa molto più semplice e divertente di quello che si possa immaginare. E poi toccheremo diversi aspetti di alimentazione, fondamentale e centrale è l'aspetto che tu citavi, quella della salute, va bene? Ma c'è anche un aspetto che è un aspetto relazionale, cucinare per il proprio amico a quattro zampe rinforza il legame. Questa è una cosa che non è soltanto recente, è una cosa antica come la relazione dell'uomo con il lupo e quindi con il cane. Ma adesso con l'alimentazione naturale abbiamo l'opportunità di intensificare questo rapporto e questa relazione impattando positivamente sulla salute. Quindi pian piano allontaniamoci sempre di più dai cibi industriali sia per l'essere umano ma anche e soprattutto in questo corso vedremo dai per gli animali per i nostri amici a quattro zampe ed entriamo in un nuovo modo di alimentarci, relazionarci attraverso una vera e propria alimentazione naturale. Clicca sul link per avere maggiori informazioni. Ti aspettiamo di là! Grazie a tutti!